Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Il messaggio di oggi è bellissimo, semplice, lo possiamo comprendere e ha il potere di cambiare la nostra vita. Gesù lo faccio perché lo hai detto tu. Pietro, che segue Gesù, il grande professionista della pesca, nato, cresciuto con il suo padre, con una società, quando ha incontrato Gesù, e pescatore di razza, di qualità, professionista, era andata a pescare, non aveva preso nulla. Nell'alto mare, nel profondo del piccolo mare che era lì, ma si trovava a qualche centinaio di metri dalla spiaggia e Gesù gli dice qualcosa che lui proprio non gli passa neppure per la testa, con tutta la professione che ha. Gesù che cosa gli dice? Leggiamo insieme in Luca, capitolo 5, verso 5. Simone rispose, maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, che mi dici? Che mi dici, signore? Tu adesso arrivi, vieni da Nazareth, non sei pescatore, non sei pescatore, che mi dici? Però, alla tua parola, perché lo dici tu? Questo vuol dire Pietro, perché lo dici tu? Questo è un esempio per noi. Quando lo fece, presero tanti pesci, che si rompevano le reti. Leggiamo il verso 5 e il verso 6, così stabiliamo di che cosa stiamo parlando. Simone rispose, Simone è ognuno di noi, che di fronte a certe circostanze naturali, così come sono le nostre logiche, maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci, che le loro reti si rompevano. Lo fece, presero tanti pesci, che si rompevano le reti. Fecero segno ai loro compagni e riempirono le due barche. Gesù ha lo stesso potere sui pesci, come sulle rane, come sui pidocchi, come sulle locuste in Egitto. Questa storia nella mente di Pietro da giudeo è una storia di 1500 anni prima. Le rane, i serpenti, il potere di Dio che accompagnava il suo popolo, ma adesso, quella è vecchia storia. Lui si trova di fronte a chi 1500 anni prima aveva fatto quello e gli dà una dimostrazione pratica che Gesù è proprio lui, quello che 1500 anni prima tirò fuori il suo popolo dall'Egitto. Leggiamo il verso 7. Un'esperienza nuova, perché ubbidì alla sua parola. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche, tanto che affondavano tutte e due, Signore Grazie. Solo che quella è la storia di 1500 anni fa e i pesci erano lì davanti a loro. Bellissimo. Racconti vecchi, esperienze nuove. Quando camminiamo col Signore è un cammino di fede. Tutte le storie che abbiamo memorizzato che sono nella Bibbia, la bellezza, la ricchezza e che quando camminiamo con Gesù vediamo che anche al presente Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e in eterno e ci dà dimostrazione del suo potere quando noi mettiamo in pratica la sua parola. Quando noi diciamo Signore perché l'hai detto tu? Io lo faccio. Per me io non lo farei. Però lo dici tu? Lo faccio io. Oh, alleluia! Solo che quella è la storia di 1500 anni fa e i pesci erano lì, nelle barche. Allora messo insieme quello che aveva sentito e quello che vedeva questo lo portò a capire che Gesù è il Messia, è il Figlio di Dio venuto in carne davanti a Lui. Nel verso 8 dice oh, di fronte a chi mi trovo si trovava come Mosè vicino al pruno ardente lo stesso io sono. Leggiamo il verso 8 che cosa successe. Gloria si è resa a Dio Simon Pietro veduto ciò si gettò ai piedi di Gesù dicendo fece proprio come fece Mosè che si tolse le scarpe perché era un luogo santo. Alleluia! Signore allontanati da me perché sono un peccatore. Che cambiamento! No è una cosa sentito dire un'altra cosa è sperimentare. Anche Giobbe disse così io avevo sentito parlare di te infatti lo aveva benedetto aveva ricevuto una ricchezza che pure Satana diceva vedi come l'hai fatto diventare ma tutto quello era un sentito dire ma non aveva fatto un'esperienza profonda con Dio ma attraverso le circostanze avverse della prova che gli passò fece delle esperienze diverse e poteva testimoniare io avevo sentito parlare di te ma ora ho visto che tu sei il grande tu sei Dio alleluia gloria si è resa a Dio e fu colto dal senso di vergogna del peccato che aveva appena commesso non solo quei vecchi aveva appena detto che lui non credeva nel verso 5 leggiamolo così guardiamo il nostro cuore come pieno di incredulità le prime parole che disse Pietro espresse la sua incredulità maestro e tutta la notte ci siamo affaticati e adesso tu te ne vieni con questa parola tua adesso tu te ne vieni per dirci non abbiamo preso nulla senza andare troppo lontano col pensiero fermiamoci Signore aiutaci veramente noi di fronte a delle circostanze lungo il percorso della nostra vita abbiamo un nostro modo di ragionare una nostra logica che è tutta naturale ma quando ci imbattiamo camminiamo cominciamo a seguire Gesù il Signore vuole inculcare nella nostra vita quello che si chiama fede non di ciò che vediamo ma di ciò che possiamo vedere se solo obbidiamo alla sua voce alla sua parola perciò questo è un aiuto che ci viene dato lungo il percorso del nostro cammino quando Gesù dice qualcosa non è secondo la nostra logica è secondo la sua potenza perché egli onora sempre la sua parola quando noi per la fede poniamo fede in quella parola e agiamo di conseguenza allora vediamo la sorpresa bellissimo questo mi piace non abbiamo preso nulla senza andare troppo lontano col pensiero fermiamoci in Luca 6 verso 27 dice qualcosa di diverso ma voi che ascoltate a quelli che ascoltano perché tanti se ne erano andati tanti non sono interessati ma io credo che tu sei interessato sorella credo che tu sei interessato fratello anch'io sono interessato a noi che ascoltiamo sentiamo che cosa ci vuole dire perché lui vuole cambiare qualcosa dentro di noi ascoltiamo amate i vostri nemici fate del bene a quelli che vi odiano questa è una parola di Gesù io dico ma che vuole fare Gesù adesso ci dà un altro metodo strano a voi dico tanti non ascoltano la domanda è ma tu e io vogliamo ascoltare veramente vogliamo permettere al Signore di operare nella nostra vita allora ascoltiamo ascoltare vuol dire con intensità con il cuore per dire vediamo che mi dici Signore aiutaci Gesù vuole rivoluzionare come Suoi discepoli il nostro stile di vita se restiamo sempre come siamo secondo noi dove è la differenza così eravamo così camminiamo facciamo come quelli che dicono mio padre faceva così mio nonno faceva così io faccio così non vogliono cambiare cambiano tutto nel sistema naturale dall'asino passano al cavallo dal cavallo al moto zappa dal moto zappa alla macchina dalla macchina alla macchina più veloce all'aereo nel naturale però nel sistema di adorare benedire servire Dio vogliono fare come facevano quelli che sbagliavano e non vogliono cambiare ma il Signore ci vuole cambiare noi suoi discepoli vuole cambiare il nostro stile di vita non c'è religione al mondo come quello che dice Gesù non esiste leggiamo questo verso è tremendo dice cose dell'altro mondo io dico amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano quella più vicina che siamo infarinati noi in Italia e un poco dove siamo è l'Islam l'Islam così fanno il fondatore quando non si convertivano i cristiani li uccideva quando gli ebrei non si convertivano li uccideva Maometto Maometto aveva un esercito e invece Gesù guarda cosa dice leggiamolo un'altra volta perché realmente c'è uno spazio che non finisce mai amate i vostri nemici fate del bene a quelli che vi odiano allora ci vuole cambiare veramente ma adesso non si parla molto di questo perché Gesù quando era per le strade della Galilea lì erano tutti sempliciotti contadini magari erano sotto le olive lui si fermava a parlare ma adesso siamo in uno stile diverso e adesso dobbiamo modernizzarci no 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 se vogliamo vedere l'opera del Signore che si sviluppi nella nostra vita non solo Gesù Cristo è lo stesso ieri oggi in eterno ma la sua parola il cielo e la terra passeranno ma la sua parola è stabile su nel cielo e quando arriva sulla terra è come una bomba cambia tutto una bomba che porta benessere leggiamo nel verso 28 Gesù che cosa ci dice oggi io vi dico a voi che ascoltate benedite quelli che vi maledicono pregate pregate per quelli che vi oltraggiano pregate che il Signore li salvi Signore aiutaci che era Pietro che era testimonio oculare di come le cose cambiavano quando Gesù parla perché parla a noi oggi infatti questa scena aveva inculcato in lui che quando parla Gesù lui si attiene strettamente a ciò che dice Signore grazie Pietro che era testimonio oculare di tanti fatti e che lui aveva sperimentato dice che funziona questo metodo possibile sì nella sua epistola dice proprio a noi che se facciamo così funziona bellissimo allora il metodo di Gesù funziona tu pensi di no vuol dire che non hai provato Pietro ha provato è il testimone vero è lui non tu e io leggiamo cosa dice in primo Pietro capitolo 3 verso 9 non rendete male per male oltraggio per oltraggio ma al contrario benedite ma che dice Pietro poiché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la benedizione bellissimo allora l'esperienza che ha fatto Pietro con Gesù di circa tre decenni e ora scrive la lettera vuol dire che ciò che Gesù gli ha insegnato funziona e lui prima di partire scrive dicendo fate così non vi preoccupate noi credenti dobbiamo fare così no ma io penso che puoi fare così e beh allora non sei tra quelli che ascoltano Gesù ha detto a voi che ascoltate non a voi che sentite a voi che ponete mente e che avete veramente intenzione di seguire e di voler vedere la vostra vita cambiata cercate di essere utile a chi beh in questo verso leggiamolo un'altra volta così assorbiamo che cosa ci dice guardiamo insieme non rendete male per male oltraggio per oltraggio ma al contrario benedite cercate di essere utile a quelli che vi oltraggiano ma che dice Pietro cercate di essergli utili utile pregate per la loro salvezza per la sua salvezza desiderando il suo bene a chi a chi ci fa male ma frate stamattina sei tornato indietro di duemila anni e me ma sorella noi o seguiamo il Signore Gesù o seguiamo l'andazzo di questo mondo che cosa vogliamo fare se no che giriamo come da una chiesa all'altra da un da una processione all'altra che giriamo a fare leggiamo nel capitolo 2 verso 23 se no che giriamo a fare che vogliamo che vogliamo fare oltraggiato non rendeva oltraggi soffrendo non minacciava ma si rimetteva a colui che giudica giustamente offeso gravemente egli si rimetteva a Dio in questo modo siete benedetti mamma mia stamattina signore mio che succede io ho sentito un predicatore che dice che alziamo la mano per accettare Gesù facciamo la preghiera del del penitente del peccatore e il Signore ci salva è così è vero veramente è proprio così se tu ti rivolgi al Signore in questo momento lui fa proprio questo però poi lungo il percorso della nostra vita il Signore vuole cambiare il nostro stile di vita perché siamo chiamati ad una vita nuova prepararci per un regno nuovo perché il regno dei cieli è penetrato con le sue radici nel nostro essere e gloria si è resa a Dio offeso gravemente egli si rimetteva a Dio in questo modo siete benedetti primo Pietro 3.9 leggiamo dice che così saremo benedetti ma come è possibile frate ma che dici forse hai letto a rovescio stamattina non rendete male per male oltraggio per oltraggio ma al contrario benedite poiché a questo siete stati chiamati oh gloria al Signore vuole noi che seguiamo il Signore siamo chiamati a fare così ma il Vangelo dove l'hai pescato frate stamattina tutte queste cose e il Vangelo è tutta grazia è tutta più pecchi adesso c'è anche di moda l'ipergrazia che è interpretata così c'è un verso che dice dove il peccato abbonda la grazia abbonda e l'interpretazione che gli danno dice pecca più che puoi non ti preoccupare perché se fai un metro di peccato il Signore ti dà due metri di grazia se fai due metri di peccato ti dà quattro metri di grazia perciò continua così fratello ma tu stai predicando un Vangelo che non è così beh ma il Vangelo dice così quello che dico io offeso gravemente egli si rimetteva a Dio ma Gesù continua su questa scia in Matteo 5 44 ce n'è un'altra ancora più rossa Signore aiutaci ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano Signore aiutaci dobbiamo farlo o non dobbiamo farlo leggiamolo un'altra volta perché se no qua chi lo dice io vi dico è Gesù che lo dice noi a questo punto dovremmo dire come disse Pietro alla tua parola io faccio quello che dici tu e qui che dice amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano beh buttare la rete era una cosa semplice per Pietro ma adesso che dobbiamo fare questo noi tu non sai che mi ha fatto mia suocera mia nuora mio fratello mio parente il fratello cristiano il pastore il presidente il compagno di lavoro il collega tu non lo sai frate posso fare una cosa del genere Gesù dice io vi dico fate così fratello ma tu sei fatto anziano secondo me è meglio che lasci il posto a qualche giovane lasci il posto a qualche giovane perché ci fa una bella predica tecnicamente preparata con i tre punti primo secondo e terzo tu frate con questi messaggi topici che pigli dalla Genesi all'Apocalisse pare che non si capisce tanto che dici ma tu lo sai che mi ha fatto che mi ha fatto mia nuora che mi ha fatto mio suocero ma tu non hai idea che mi ha fatto il collega di lavoro e io adesso devo fare così leggiamo un'altra volta io dico dice Gesù guardiamolo insieme mi fa sorridere il Vangelo quando parla Gesù mi fa sorridere ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano io vi dico abbiamo udito di fronte a ciò che dice Gesù che dice Pietro dice così Simone gli rispose maestro tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla però secondo la tua parola getterò le reti fatto questo successe qualcosa di straordinario leggiamo il verso 6 allora succede qualcosa quando noi lo facciamo leggiamolo per cortesia capitolo 5 verso 6 di Luca ma che sei bello signore è fatto così presero una tal quantità di pesci che le loro reti si rompevano cioè se proseguiamo troviamo che le due barche stavano affondando perché perché Pietro fece letteralmente ciò che aveva detto Gesù noi leggiamo un'altra volta Matteo 5 44 perché oggi il Signore vuole fare un grande miracolo nella tua vita ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano signore aiutaci i teologi chiamano questa grazia comune questo sentimento divino bellissimo signore grazie metti questi sentimenti nella nostra vita questo è un sentimento divino che viene dalla bocca di Gesù la chiamano grazia grazia comune questo sentimento divino fra te sore ti voglio dire che funziona fra te sore ti voglio bene perché me l'ha detto il Signore ma se no io e superficialmente gli diamo la mano e diciamo pace c'è un pericolo oggi che guardando gli insegnamenti del Signore noi li prendiamo superficiali e diciamo va bene facciamo non facciamo vedere a tutti come ci diamogli la pace dopo che è finito il culto e così diamo la pace alla sorella al fratello all'amico come se dessimo una saraca morta proprio la forma di una saraca morta nella mano dell'altro e così abbiamo sistemato la faccenda ma dentro non è così e allora dobbiamo stare attenti perché noi possiamo essere dei credenti proprio così ma allora che dobbiamo fare fratello fratello ti voglio bene perché me l'ha detto il Signore se no non ti avrei neppure salutato diciamo che le espressioni delle nostre chiese moderne c'è un andamento un pochino così giusto per la parata di facciata come dice Gesù Gesù dichiara il peccato in un modo semplice ma comprensibile diceva a questa categoria dice a questa categoria non diceva perché oggi parla a noi dice che tu sei come un sepolcro imbiancato e i cimiteri di allora erano pieni di morti naturalmente ma nel periodo primaverile con la calce e con una scopa così una specie di pennello li pittavano erano tutte bianche sembravano i trulli di albero bello però dentro non era come i trulli che c'erano delle persone vive che ci abitavano c'era una puzza che non si poteva resistere e Gesù dice guarda voi siete proprio così non è che siamo pure noi così che se si scoperchia che abbiamo dentro apriti cielo che succede dobbiamo uscire tutti dalla chiesa signore aiutaci questo giorno non deve essere frate faccio così perché lo dice il signore superficialmente e dentro siamo separati siamo come ghiaccio aiutaci signore Gesù aumenta la dose il Matteo 18 15 dice così leggiamolo insieme ma quanto sei bello signore ti amiamo perché tu veramente non solo ci cambi alla radice fai un cambiamento radicale ma tu vuoi che noi collaboriamo con questo tipo di cambiamento così vi farà anche il padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello forse non abbiamo tempo di leggere cosa dice prima il signore leggiamo dal verso 33 così comprendiamo Gesù che sta dicendo non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te leggiamo il verso 34 e il suo signore ha dirato lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che doveva che gli doveva leggiamo il verso 35 così farà il padre vostro mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello allora la cosa è seria veramente non è un semplice non è una semplice lavata di faccia perché tutti ce la laviamo la mattina è un'altra cosa Gesù vuole un cambiamento nella tua vita sorella fratella col cuore il vero perdono viene dal cuore e Dio sa se è vero il perdono che tu mostri verso gli altri se è camuffato stai perdendo il tempo perché il Signore è la chiave è pregare intensamente che il Signore lo benedica veramente pregare per il tuo nemico con quello che ti tormenta dentro con quello che ti ha fatto e ti fa del male pregare col cuore che il Signore lo benedica fortemente prima di ogni altra preghiera devi pregare per lui devi pregare per lei che il Signore lo benedica può essere sì ascolta ti voglio dire una cosa importante tutte le volte che Dio che Gesù dice qualcosa e noi non la facciamo siamo disubbidienti giusto ascolta perché ora il Signore ti vuole liberare ascolta perché funziona Pietro che era stato 30 anni in missione dopo aver visto il Signore risorto ci ha detto che funziona e io ti dico che funziona quando Gesù dice io vi dico di fare così è la sua parola che ci dice quella quando tu non lo fai questa è una disubbidienza al Signore uno e dato che tu hai disubbidito al Signore hai aperto la porta al nemico che quella persona ogni volta che vuoi pregare te la presenta davanti per disturbarti e non farti avere comunione con Dio ogni volta che vuoi gioire il nemico te la presenta davanti ogni volta che vuoi avere un po' di relax spirituale il nemico te la presenta davanti il nemico usa lui come una strategia per metterti in grandi difficoltà perché la tua disubbidienza favorisce il nemico di fare quello che vuole nella tua vita e tanto te lo porta davanti che ti fa venire il bruciore di stomaco ti fa venire la gastrite il verso 35 dice perdonate col cuore tu non ce la fai se ognuno di voi se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello alla propria sorella al proprio cognato amico e chiunque sia ascolta oggi il signore ti vuole liberare oggi il signore ti vuole liberare per colui per colei che adesso già è nella tua mente nel tuo cuore che tu ti preoccupi ma come faccio a perdonarlo come faccio a perdonarla toglimi quel verso che voglio parlare con la sorella e col fratello questa mattina dice frate stare sul pulpito da quella parte è facile ma tu non sai cosa mi ha fatto quello e tu non sai cosa mi ha fatto quella che io adesso ho proprio nella mia mente ma il signore oggi ti vuole liberare perché dice che tu lo devi perdonare col cuore come devo fare il nemico approfitta della tua disubbidienza e ogni volta che tu vuoi avere comunione con Dio ti presenta questo ostacolo perché la tua disubbidienza permette al nemico di fare quello che vuole nella tua vita la medicina è questa Gesù ha detto prega per lui prega per lei che il signore lo benedica con tutto il cuore tu lo devi fare se lo fai e preghi che il signore lo salvi che il signore lo benedica che il signore lo faccia diventare prosperoso che il signore lo converta a lui ti posso dire che funziona perché il nemico quando te lo presenta e vede che tu che tu preghi perché il signore lo salvi non te lo presenta più perché dice ascolta perché il nemico dice ma quello se io lo presento a lui quello si mette a pregare che sia salvato ma allora che faccio porto davanti alla sua immaginazione il suo nemico perché Dio lo converta non sia mai dopo due o tre volte non te lo porta più e il Signore dal canto suo premia la tua obbedienza e ciò che non potevi fare prima è successo dopo che quella persona non senti più nel cuore il rancore che sentivi prima lo Spirito Santo ti ha liberato perché perché tu hai espresso ubbidienza a ciò che Gesù ha detto alla sua parola e tu vieni liberato tu vieni liberata si comincia a rinsaldare il bruciore dello stomaco cominci a vedere quella persona con un occhio diverso e godi della pace di Cristo l'ubbidienza va al meglio del sacrificio io la rete non la butterei neppure per tutto l'oro del mondo ma perché lo hai detto tu vennero fuori due barche di pesci quando noi siamo obbedienti alla parola del Signore lui agisce in un modo sovrannaturale e ti libera tu hai capito oggi come puoi essere liberata da tutto quel rancore da tutto quel dispiacere da tutta quella piaga da quel cuore spezzato frantumato per il danno che hai ricevuto e senza dubbio hai ragione ma il Signore Gesù Cristo è venuto per guarire quando noi ubbidiamo alla sua parola la sua guarigione rimargina le piaghe del tuo cuore e cominci ad essere liberata cominci ad essere liberato aiutaci Signore funziona mi ricordo fin dalla mia infanzia da cristiano ero appena convertito andai ad un campeggio con la mia fidanzata e lì io volevo bene eravamo giovani 23 anni e proprio lì mi disse che non era più possibile perché era amica di un'altra famiglia mi ricordo che come ero ripieno di Spirito Santo sotto l'unzione dello Spirito Santo lo Spirito Santo mi invitava a pregare perché il Signore l'avesse battezzata nello Spirito Santo io pregavo proprio così e mi accorsi che non c'era nessun astio nessun dispiacere nessuna cosa che mi faceva pensare ma perché mi ha lasciato e mi accorsi che io stavo facendo come mi guidava lo Spirito Santo un qualcosa che era uguale a ciò che Gesù aveva detto pregate per io così facevo perché lo Spirito Santo così mi guidava ma ho avuto un riscontro dentro di me mentre tutti quando è che si lasciano che si vogliono bene addirittura si uccidono il Signore non mi ha fatto sentire un minimo un minimo un'ombra di dispiacere e da allora ho compreso che questo è il segreto quando noi ubbidiamo io non sapevo questo perché non l'avevo letto ma allora essendo ripieno di Spirito Santo lo Spirito Santo mi faceva muovere in quel modo e io ubbidivo allo Spirito Santo come mi disse che non era più possibile il desiderio mio era uno che in quegli otto giorni il Signore l'avesse battezzata nello Spirito Santo perché io sperimentavo la gioia della presenza dello Spirito Santo così mi guidava lo Spirito Santo e così io pregavo non avvertì niente niente come se non fosse successo nulla dopo ho compreso quando dice Gesù pregate per i vostri nemici fategli del bene prodigatevi in questo perché quando lo facciamo col cuore è un'ubbidienza ciò che dice il Signore è Lui sulla base della nostra ubbidienza fa entrare in azione il suo potere per portare liberazioni al tuo cuore la chiave è pregate intensamente che il Signore lo benedica che il Signore la benedica che il Signore la salvi che il Signore gli dia benessere che il Signore la porti a sé Alleluia gloria al Signore questa è la risposta tu ti chiedevi prima ma io come posso farlo mentre io parlavo tu pensavi ma frate stare da lì è una cosa stare dove sto io è un'altra cosa no ma io lo so perché quando mi è successo lungo il percorso del mio cammino e che ho avuto batoste da tutte le parti dai fratelli cardali fratelli spirituali e colleghi di lavoro questo metodo ha sempre funzionato e mi ha liberato perché il diavolo mi portava sempre davanti alla mente quella persona ah pensavo ti faccio vedere io come faccio diavolo tu mi porti il fratello che per disturbarmi io prendo il fratello e lo presento al Signore e non me lo portava più perché perché sapeva che quando me lo portava io lo portavo al Signore perché il Signore lo avesse salvato lo avesse liberato lo avesse ristabilito e dice che lo porto a fare questo si mette a pregare e il Signore dalla mia obbedienza mi ha sempre benedetto sono scomparsi dalla mente come il Signore me li portava che volevo pregare mi portava il fratello che mi aveva fatto del male il fratello del comitato che voleva che chiudessi parole di vita subito e dico ma qua come facciamo il Signore mi aveva insegnato il metodo il metodo è scritto nella sua parola e funziona meravigliosamente alleluia e ci rende liberi leggiamo in Colossesi capitolo 3 verso 13 gli apostoli conoscevano questi segreti sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che donarsi di un altro e poi c'è il bel esempio come il Signore vi ha perdonati così fate voi ma io non ci riesco fratello ma io non ci riesco sorello ascolta il Signore ci ha dato il metodo noi dobbiamo applicare il metodo di vero cuore perché se no tu sarai torturata una vita torturata una vita e crea dissapori nella tua vita e non hai comunione col Signore perché la tua disubbidienza non ti fa avere gioia nel cuore ti conviene? io dico no Signore aiutaci come il Signore Gesù ci ha perdonati veramente lo abbiamo sentito dentro l'altro si deve accorgere che sei sincero non deve essere un perdono artificiale come nella Chiesa moderna non voglio criticare però ho imparato da Gesù Gesù dichiara il peccato non è critica Gesù quando parla dichiara il peccato perché dichiarandolo ognuno sa dove sbaglia i profeti hanno fatto così il grande Geremia il grande Isaia quando parlavano di che faceva il popolo non era per criticare era perché sapendo con precisione qual era il peccato che stavano praticando avessero si fossero fermati quando dico alcune cose che succedono nella Chiesa nei credenti non è critica è dire questo agli occhi di Dio è abominio e perciò tu che lo stai facendo non ti sto criticando ti sto dicendo che quel peccato lo devi mettere fuori dalla tua vita qualcuno ha pensato che quando parlo del peccato critico chi lo fa no gli do un giusto nome a ciò che sta facendo perché lo Spirito Santo mi fa comprendere che quel peccato deve uscire da quel cuore perché se no ne avrà una sofferenza continua perché Dio non benedice il peccato ama il peccatore in Colossesi capitolo 1 verso 14 se ne deve accorgere la persona che tu veramente l'hai perdonato in lui abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati abbiamo sentito la remissione della colpa perdono questa azione potente per mezzo dello Spirito Santo nel nostro spirito il perdono di Cristo non è stato è stato sentito da noi noi non solo dobbiamo pregare per coloro che ma nel limite delle nostre possibilità dobbiamo anche esprimerlo che veramente noi l'abbiamo perdonato leggiamo il verso capitolo 2 verso 13 voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcessione della vostra carne voi dico Dio ha vivificato via Dio ha vivificati con lui perdonandoci tutti i peccati ci ha vivificati ha portato un rapporto nuovo con Dio una vera riconciliazione perché lui ha cancellato verso 14 leggiamolo insieme ha cancellato il documento a noi ostile l'ha tolto di mezzo i cui comandamenti ci condannavano l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce noi dobbiamo cancellare quando viene alla mente dobbiamo reagire signore ti prego benedicile quando preghi ti allontana dal cuore perché il diavolo non te lo porta più ma dopo un poco di tempo te lo riporta un'altra volta e tu devi continuare con la stessa scia signore è tornato un'altra volta nella mia mente mio genero mia nuora signore benedicilo rendilo forte in te salvalo che sia una persona che ti possa servire il diavolo ci riprova sempre ma tu ascolta ascolta noi dobbiamo reagire continuiamo a pregare per lui continuiamo a pregare per lei quando il signore ci ha perdonato ci ha incominciato a benedire questo ha fatto il signore non solo ci ha perdonato ci ha benedito io ho perdonato ciao finisce lì questi sono gli esempi che ci devono portare a guardare a Cristo guardare a Cristo vuol dire vedere come si muoveva perché quello è l'esempio nostro in Efesini 1-3 leggiamo insieme che cosa fa a Dio sia la gloria non solo ci ha perdonati ci ha benedetti benedetto sia il Dio e padre del nostro signore Gesù Cristo che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo materialmente e spiritualmente in secondo Pietro che lui si è esercitato una vita questo ti ricordi che aveva anche lui qualche difficoltà all'inizio lui aveva le difficoltà ma poi quando ha capito la chiave è cambiato lui aveva la difficoltà perché ci poteva essere qualcuno che tutti i giorni aveva bisogno di perdonare e un giorno disse signore ma quante volte lo devo perdonare lui sperava che il signore gli avesse detto sette volte perché questo era proprio vicino a lui lui pensava se mi dice sette volte io verso le sei la mattina me ne fa una alle sette me ne fa un'altra alle otto me ne fa un'altra alle nove me ne fa un'altra alle dieci me ne fa un'altra alle undici abbiamo terminato beh dalle dodici in poi dopo gli dico adesso basta perché mi ha stufato e invece il signore gli prolungò lo spazio e gli disse che cosa settanta volte sette come dire sicuramente perderai il numero mentre ti metti a contare e così cominci da capo un'altra volta vuole dire all'infinito ma noi dobbiamo usare le armi di Cristo l'ubbidienza ci aiuta a vedere i risultati la nostra disubbidienza restiamo artificiali aiutaci signore in questo giorno in secondo Pietro capitolo 1 verso 3 dice così la sua potenza divina quella entra in azione ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù la sua divina la sua potenza divina è fonte di stabilità il nostro impegno non deve essere superficiale perché se no perdiamo tutte le promesse che il signore ci ha messo Dio l'artificialità non ne tiene conto l'adorazione deve essere fatta in spirito e verità dobbiamo essere veri davanti al signore non possiamo camuffare tanti oggi pensano che fanno i furbi con Dio e poi Dio li benedice lo stesso ma dove vai ma dove vai frate ma sore ma dove vai dove vuoi andare tu non ti rendi conto quanta ignoranza quando tu pensi così che pensi che aggiusti col fratello e dentro stai messo male sei tu che ne paghi le conseguenze leggiamo il verso 4 come ci aiuta ancora oh signore aiutaci in questo giorno attraverso queste ci sono state largite le sue preziose grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che nel mondo a causa della concupiscenza allora mettiamoci all'opera impegniamoci seriamente e allora vediamo che poi tutto si apre e diventa più facile camminare col signore leggiamo il verso 5 ma vivere la vita cristiana deve essere un piacere e quando troviamo qualcosa che ci dice il signore deve essere la nostra passione di farla prima possibile voi per questa stessa ragione mettendoci da parte ogni vostro impegno aggiungete alla vostra fede la virtù alla virtù la conoscenza aggiungi aggiungi ancora leggiamo nel verso 6 aggiungiamo queste cose segnati questi versi dedicatici alla conoscenza all'autocontrollo all'autocontrollo la pazienza alla pazienza alla pietà ancora guardiamo nel verso 7 alleluia alla pietà all'affetto fraterno all'affetto fraterno l'amore non ci fermiamo queste cose ci tolgono la pigrizia alleluia diventiamo energizzati dallo spirito santo nel verso 8 dice così leggiamo quanto sei bello signore perché se queste cose si trovano in te e abbondano in te non sarai una pigra non sarai un pigro non sarai uno sterile non sarai una sterile nella conoscenza del signore Gesù Cristo alleluia guardiamo come continua quest'uomo di Dio perché ha fatto delle esperienze gloriose fino al verso 11 grazie signore lui l'ha vissuta la vita cristiana perché se queste cose si trovano e abbondano in voi non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza la conoscenza non letterale ma la conoscenza della presenza dello spirito santo nella nostra vita che ci presenta Gesù nel nostro signore Gesù Cristo a colui che non ha queste cose cieco oppure miope avendo dimenticato di essere stato di essere stata purificata dai suoi vecchi peccati perciò fratelli impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ad elezione perché così facendo non inciamperete mai passo dopo passo mettiamo ad effetto ciò che il signore ci insegna in questo modo infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro signore salvatore Gesù Cristo tutto quello che Gesù dice fatto col cuore funziona fatto superficialmente non funziona non funziona fare coraggiosamente con forza d'animo alimentata dallo Spirito Santo lo Spirito Santo accompagna la parola Gesù dice io vi dico quando Gesù dice lo Spirito Santo ci guida nella preghiera per farci fare le cose che Gesù dice ho detto che ero appena convertito il fatto della mia fidanzata ma ero ripieno di Spirito Santo io in quel tempo chiedevo al Signore Signore portami in cielo a 23 anni dicevo Signore ma che devo fare sulla terra voglio venire prendimi prendimi poi un giorno mi disse ma basta che mi chiedi sempre questo se quando salvo le persone me li porto in cielo chi predica il Vangelo devi stare ancora un poco però per effetto per effetto è guida dello Spirito Santo io pregavo per la mia fidanzata perché lo Spirito Santo mi guidava così lo Spirito Santo ci guida in ciò che Gesù ha detto anche quando non l'abbiamo letto infatti in Romani 8 26 dice che noi non sappiamo pregare io non sapevo pregare allo stesso modo lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché non sapevo pregare come dovevo pregare ma lo Spirito Santo mi guidava e mi diede una lezione che mi è servita sempre ma lo Spirito intercede degli stessi per noi con sospiri ineffabili cioè quella esperienza mi è servita lungo il percorso della mia vita dopo ho trovato che era scritto perché quando mi presentava qualcuno e ce ne sono stati tanti nel mio cammino che mi hanno fatto dei grossi torti in qualsiasi campo avrei dovuto adesso avere una schiera di inimicizie con le persone ma non potrei predicare il Vangelo ma il Signore mi aveva istruito per mezzo dello Spirito Santo e quando qualcuno si è ripresentato nella mia mente sul mio cammino il Signore mi riportava sempre quell'esperienza fatta una volta per dire questo per togliertelo dalla testa devi cominciare a pregare che il Signore lo benedice lo salvi e lo conquisti a sé e che diventi uno strumento potente nelle mani del Signore quando facevo così il nemico non me lo portava più e il Signore mi liberava e così sono ancora qui e posso testimoniare che funziona se hai questa difficoltà lo dice il Signore lo ha detto Pietro e io te lo posso confermare da 23 anni a 80 anni che il Signore mi ha salvato a 23 anni sono passati 57 anni ti posso testimoniare che funziona per te che hai questa difficoltà segui quello che ha detto Gesù io vi dico pregate per i vostri nemici fategli del bene prodigatevi per fare qualcosa che riscontri che voi veramente li avete perdonati Gesù quando ci ha perdonato non ha detto vi ho perdonato adesso vedete che potete fare abbiamo dei riscontri nella nostra vita che egli continua a riversare benedizioni materiali e spirituali nella nostra vita noi dobbiamo guardare a Gesù ebbene anche oggi il Signore ci ha parlato quando dice che dobbiamo fare non dobbiamo fare per la nostra salvezza non dobbiamo fare per essere salvati ma perché siamo salvati dobbiamo sperimentare come il Signore ci santifica e si serve di noi per penetrare come il lievito nella pasta penetrare nel mondo che ci circonda è il nostro stile di vita spirituale che deve essere cambiato perché Gesù dice proprio questo nel mondo si fa così voi invece quando dice voi invece noi subito dobbiamo invertire la rotta mettere subito al primo posto il suo consiglio questo ti serve per quell'uomo per quella donna per quella famiglia che subito il diavolo te li presenta per mettere nel tuo cuore dispiacere rabbia astio odio come te lo presenta come te li presenta la prima cosa ti metti col cuore e preghi che il Signore li benedica che il Signore lo benedica che il Signore lo faccia prosperare che il Signore li faccia arricchire che li faccia abbondare in ogni cosa poi ritorna poi ritorna un'altra morte il Signore dice che noi li dobbiamo amare e dobbiamo pregare per loro amare come Gesù ha collegato un tipo di amore ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la forza tua con tutta la mente tua e allo stesso modo ama il tuo prossimo come te stesso noi dobbiamo tendere in quella direzione perché in ubbidienza a ciò che dice il Signore egli riversa i suoi miracoli su di noi alla tua parola noi dobbiamo prendere la parola e ogni volta dire tu mi hai detto questo io faccio questo mi è capitato una volta che il Signore ha ordinato di fare così la prima cosa davanti alle mie preghiere senza perdere tempo così devi fare perché Gesù l'ha detto non perché te lo dico io io ti dico cosa ha detto Gesù e allora vedrai come cambiano le cose leggiamo il messaggio che cosa dice ricordati leggiamolo dice Gesù così devi dire Gesù lo faccio perché l'hai detto tu lui fece quello che aveva detto Gesù è nel verso 6 leggiamo così ti viene confermato Luca 5 6 dice è fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano alla tua parola Gesù ha detto oggi che tu e io dobbiamo pregare amare e fare il meglio per i nostri nemici e per coloro che ci perseguitano ci oltraggiano non ci riesci è certo che non ci riesci se lo vuoi fare tu non ci riuscirai mai se Pietro voleva braccare tutti quei pesci per riempire due barche non gli bastava tutta la vita ma perché l'aveva detto Gesù restarono sorpresi è Gesù che ha detto dovete fare così e tu se lo fai vedrai i risultati non lo fai avrai sempre questo fastidio nella testa che non ti fa prendere pace e ti fa ammalare anche fisicamente liberatene subito ubbidisci a Gesù e vedrai poi mi manderai un bel messaggio tra qualche giorno fratello il Signore mi ha liberato era una vita che avevo questo 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 chiodo nella testa che non me ne riusciva a liberare aspetto un tuo messaggio a breve perché il Signore è fedele alla sua parola lui è presente adesso mentre ti parlo come tu parti lui ti fa vedere il miracolo della liberazione dall'odio e dal dispiacere che stai provando ogni giorno e mette la sua gioia nel tuo cuore ringraziamo il Signore insieme Signore ti ringraziamo perché tu sei buono grazie che hai parlato alla sorella al fratello a me perché tu Signore ci vuoi cambiare ci vuoi benedire tu vuoi il nostro bene tu sai il dolore che c'è nel cuore della sorella per il torto ricevuto nel cuore del fratello per il torto ricevuto e perciò oggi hai mandato la tua parola per liberarla per liberarlo e tutti insieme ti ringraziamo grazie Signore per la tua parola Spirito Santo di Dio spandi la tua presenza su tutti coloro che siamo insieme quanti ascolteranno questo messaggio perché questo messaggio porta liberazione perché sei tu che parli e sei tu che agisci grazie a te Signore ora e sempre Amen 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 Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org